Gabba Bruna della Gabba Salumi, anche questa figura aziendale è corporate donor nell'ambito della Lilt, la signora è anche presidente di un'associazione internazionale proprio al femminile che da sempre persegue quelle che sono finalità di prestigio e di pregio per la valorizzazione delle persone. Qual è il connubio tra questa associazione di cui lei poi parlerà e della Lilt? Allora prima sicuramente la Lilt perché la Lilt nel nostro territorio è comunque un fiore all'occhiello che deve portare avanti il discorso delle malattie tumorali e quindi direi prima siamo entrati nel corporate della Lilt perché come azienda dobbiamo impegnarci e portare proprio a termine la Lilt insomma, questo nuovo complesso lo spazio Lilt perché comunque questa malattia purtroppo in tutte le famiglie le abbiamo vissute e si vivranno e di conseguenza l'azienda come Gabba Salumi deve pensare prima al territorio. Mentre invece per quanto riguarda l'associazione che rappresento è un'associazione internazionale formata da solo donne e donne che lavorano, donne impegnate nel sociale. Noi abbiamo dei progetti nazionali e cerchiamo di portarli a termine, quando non ce la facciamo in un anno ce la facciamo in due e eventualmente si può pensare di collaborare con Spazio Lilt in futuro. Ecco, l'associazione si chiama Soroptimist. Si chiama Soroptimist, sono presidente da due anni, abbiamo fatto diverse cose, diversi service e spero di poter fare qualcosa anche per la Lilt.